Il signore ha offerto 35 mila euro e io do il tempo per l'assegnazione. I telefoni c'erano, io ho quattro centrinisti, uno risponde, il fatto è, salve sono Berlusconi, voglio offrire 40 mila. Il mio telefonista, insomma il mio centrinista, disse, certo guardi, io sono Napoleone per favore, vada di auto, e li ha chiuso così. Richiama lui sempre con un numero privato, guardi sono veramente Berlusconi, voglio quel quadro a 40 mila euro. Al che fa il mio centrinista, mi fa un segnale così, chiuditi l'audio, esci, di scena, guarda che ha chiamato per due volte Berlusconi e dice che vuole questo quadro a 40 e tu sei detto, Roberto, perché sei ubriaco, cioè no, non esiste. Al che io riprendo la diretta e dico 35 mila, faccio finta di non avere preso questa offerta di 40. Richiama nuovamente Berlusconi, sempre col numero privato, e Roberto lo tratta malissimo, dice, senta noi siamo qui a lavorare, non vuole smettere, se no do il numero alla polizia postale, quindi richiude.